E continuando a parlare di emergenza sanitaria ci spostiamo dall'Aquila a Pescara dove da domani partirà la campagna vaccinale anti-covid con la somministrazione dei primi vaccini al palafiere di Fontanelle. Si punta a vaccinare 1500 persone al giorno partendo proprio dagli ultraottantenni e dalle persone fragili. Ma facciamo un po' il punto della situazione nel collegamento in diretta con la collega Gigliola Edmondo che si trova proprio sul posto a Pescara. Gigliola, buongiorno a te. Sì Anna, buon pomeriggio. Con Andrea Berardinelli ci troviamo al Pescara Fiere di Via Tirino in zona Fontanelle. Siamo con il sindaco Carlo Masci. Vaccinazioni anti-covid agli over 80 da domani mattina alle ore 9. Questa struttura sarà aperta dalle 9 alle 13, dalle 14.30 alle 18.30. È atteso l'arrivo di 7.000 dosi Pfizer e si partirà alle 9 di domani mattina con 32 sanitari tra medici e infermieri operativi alle 16 postazioni di cui 4 riservate ai medici di famiglia. Campagna vaccinale coordinata dalla AS di Pescara e dal comune. E chiedo subito al sindaco, so che vi ponete un obiettivo importante per la vaccinazione degli over 80. E intanto il Pescara Fiere è già pronto? Sì, gli operai stanno lavorando lacrimente per consegnare la struttura questa sera. È una struttura che noi già abbiamo testato con gli screening di massa. Siamo arrivati a farne circa 70.000 e adesso la stiamo trasformando per effettuare le vaccinazioni di massa. Diventerà il centro delle vaccinazioni di Pescara. Riusciremo a fare 1.500 vaccinazioni al giorno. Questo è l'obiettivo a cui vogliamo tendere velocemente, non soltanto per gli over 80, ma per tutti coloro che si dovranno vaccinare in questi mesi. Perché il Covid si sconfigge con la vaccinazione e oggi è giunto il momento, visto che stanno arrivando i vaccini in numero consistente, di mettere a disposizione una struttura che sia in grado di sopportare questi numeri. Fino ad oggi c'è stato il Palabecci che ha svolto una funzione importantissima. Adesso quella struttura sarà utilizzata per fare i richiami e poi si passerà definitivamente al palafiere di Danelli. E io ringrazio il dottor Danelli, il presidente della Confcommercio, che ci ha messo a disposizione gratuitamente questa struttura. E bisogna sottolinearlo perché in questa vicenda Covid abbiamo visto tante persone che si sono offerte gratuitamente, sia per dare il loro contributo, ma anche per dare strutture. E questo è importante perché c'è un atto di solidarietà che deve essere evidenziato. Quindi siamo pronti. Domani ci sarà il primo giorno, la deadline, che sicuramente permetterà di andare verso una situazione migliore per tutti quanti. Anna, noi ci troviamo all'esterno del Pescara Fiere perché in questo momento stanno lavorando, quindi per motivi di sicurezza non possiamo entrare. Ma il sindaco ci potrà anticipare come si sta strutturando l'interno di questo edificio e come avverrà la vaccinazione, nel senso come verranno dislocati i medici, i sanitari e tutti coloro che saranno impegnati in questa campagna vaccinale. Sì, abbiamo creato degli scomparti, delle aree dedicate, c'è la prima area che è dedicata all'accettazione, poi ci sarà l'area che sarà dedicata all'anamnesi, quindi alla verifica delle condizioni del paziente per essere vaccinato, poi lo spazio dedicato alla vaccinazione e un altro spazio che sarà quello in cui le persone si avvieranno verso l'uscita dopo essersi fermate per un quarto d'ora per verificare se il vaccino abbia comunque fatto un effetto di tranquillità e di serenità. Quindi poi si uscirà tranquillamente, abbiamo un grande parcheggio, le condizioni sono ottimali, come ho detto prima le avevamo già sperimentate con gli screening di massa, adesso lo faremo per la vaccinazione di massa che finalmente risolverà definitivamente il problema del Covid. Ce lo auguriamo tutti. Quindi 1.500 vaccini al giorno verranno somministrati contro le 500 dosi attuali. Ringrazio il sindaco Carlo Masci. Anna, se non hai domande io ti restituirei la linea e ringraziando anche l'operatore Andrea Berardinelli.